Buongiorno e buona domenica, una domenica finalmente di sole, anche da un punto di vista meteorologico, non solo da un punto di vista calcistico. In una settimana di sconfitte dolorose, Champions League, di vittorie balbettanti, Fiorentina, di interviste a orologeria, lato stampa naturalmente, e di conferenze stampa bizzarre, ecco che ieri in Milan trova un'altra vittoria, la seconda vittoria consecutiva in campionato. Un successo che ci ha dato respiro, effettivamente. Ci ha dato respiro perché in tanti pensavano che ieri la partita potesse finire male e in realtà, diciamo che, come ci siamo detti nel post partita, un po' la nostra evidente superiore qualità e la nostra capacità di segnare tre gol, che comunque insomma di questi tempi non è una cosa banale, e l'inconsistenza totale offensiva del Frosinone hanno contribuito a questo risultato, che è un risultato che naturalmente non inganna nessuno, nel senso che i problemi restano, le difficoltà di gioco restano, la speranza è che recuperando giocatori importanti, avendo a disposizione, ecco non tanto avendo a disposizione un 11 da schierare, ma avendo a disposizione 15, 16, 17 giocatori, le cose possano migliorare anche da un punto di vista di proposta di calcio, perché sappiamo che con le cinque sostituzioni di fatto possono subentrare all'interno della stessa partita più partite e quindi avere la possibilità di cambiare è stato questo un po' il grande problema di tutti questi infortuni, non magari tanto a parte l'emergenza difensiva di ieri, ma non poter non schierare una formazione con tanti titolari, quanto non avere alternative, quindi non poter in corsa avere qualcuno che magari dalla panchina possa entrare e possa incidere. Come dicevo la vittoria di ieri non esalta nessuno se non qualche protagonista che ovviamente deve così lanciare un po' un grido di soddisfazione per tenere alto il morale della ciurma, ma credo che la vittoria di ieri sia una vittoria come dicevo importante, ma racchiusa nel discorso prendiamoci questi tre punti. Tante volte non ci siamo riusciti, anche negli anni scorsi, e quindi questo è sicuramente un segnale positivo. Ora il tema è questo, ci possiamo accontentare, ce lo siamo chiesti più volte, è stato anche argomento di discussione nell'ultima compagnia della live, magari diventerà argomento di discussione anche nella compagnia della live di domani. Il Milan può accontentarsi, che cosa vuol dire però accontentarsi? Dal mio punto di vista l'accontentarsi è relativo al momento, alla situazione. Dato che spesso le squadre di calcio pianificano e poi programmano la stagione sulla base di segmenti, il segmento nel quale siamo immersi è quello dell'appunto accontentarsi. Non chiedere grandi cose da un punto di vista tattico, non chiedere grandi cose da un punto di vista di prestazione, ma chiedere i punti, chiedere il risultato. Questa secondo me è la fase dove dobbiamo raccogliere il più possibile, per rimanere lì e vedere che succede, nel senso che vincere ti tiene a distanza da quelle dietro, che devono comunque arrancare, che devono poi affrontare partite importanti come quella di questa sera del Napoli con l'Inter per riuscire a rimanere in scia e quindi generi anche tutta una situazione positiva che non è solo per te ma è anche rispetto agli altri. Quindi in questo segmento il Milan, con tutte le difficoltà e con tutti i problemi, deve continuare a fare punti. Ci sono due partite nel prossimo segmento, che sono quelle con l'Atalanta e con il Monza. Sono due partite complicate per ragioni diverse, due squadre comunque di livello superiore rispetto al Frosinone, due squadre che riusciremo ad affrontare molto probabilmente e finalmente con più giocatori di esposizione. Intanto tornerà Giroud alla squalifica, questo è certo. Poi abbiamo recuperato, recupereremo probabilmente Leao, recupereremo probabilmente Kier, benassero è tornato ieri. Insomma, un pelino di sereno si sta vedendo attraverso le nubi come qui oggi. Stiamo riuscendo a ottenere dei risultati che in un certo senso ci rimandano al periodo dell'anno scorso, all'inverno scorso, quando abbiamo cominciato a prendere schiaffoni a destra e a sinistra, poi ci siamo un po' rimessi in sesto, abbiamo faticosamente ma comunque progressivamente ricominciato a fare i punti. Allora dicevo l'accontentarsi. L'accontentarsi è proprio in relazione a un periodo. Mentre le valutazioni, mentre le analisi si fanno su quello che potrà arrivare da qui alla fine della stagione o su quello che è stato fatto lungo un percorso, il discorso dell'accontentarsi è un discorso relativo a un pezzetto, relativo a una parte. Una parte dove inevitabilmente si deve fare in necessità virtù. Capita nella vita di tutti, credo, a meno che non si sia dei robot, ma insomma non mi è dato sapere, credo che nella vita di tutti sia capitato un momento dove non si riesce a dare al 100%, per tante ragioni fisiche, psicologiche, le difficoltà che la vita ci mette di fronte o semplicemente un periodo un po' così dove si perde l'orientamento. E allora anche in quel momento lì l'importante è ottenere risultato, cioè l'importante magari senza strafare, senza che ti venga chiesto troppo, ma è fare il quotidiano, è fare il minimo che si deve fare. Per una squadra come il Milan il minimo che si doveva fare era vincere in casa con il Frosinone e infatti questo è accaduto. Quindi io non sono negativo rispetto al concetto di accontentiamoci. Io ho evidenziato e spesso ho trovato anche condivisione del mio pensiero, quelli che sono i problemi di questa squadra, la società, l'allenatore, i giocatori, insomma una somma un po' di cose che devono essere sistemate e in questo momento non avendo la possibilità di farlo e quindi di sistemarle è necessario, come dicevo prima, fare di necessità virtù e quindi riuscire a prendersi tutto quello che si riesce a prendere in attesa di capire che cosa accadrà. Nel senso che la seconda parte di stagione potrebbe essere una seconda parte di stagione molto diversa, ad esempio se noi dovessimo uscire dalle coppe europee. È chiaro che da un punto di vista di prestigio e da un punto di vista sportivo e di amore per questo Milan noi tutti speriamo che il Dortmund batta il Paris Saint Germain e che noi si vinca Newcastle e quindi che sia noi ad andare agli ottavi di finale. Situazione difficilissima, è difficilissimo che questo si realizzi, non impossibile perché nel calcio abbiamo visto di tutto, quindi non è impossibile, ma se dovessimo scivolare in Europa League io ritengo che la seconda parte di stagione potrebbe essere ancora un po' complicata. Non abbiamo la struttura per affrontare il doppio impegno, vuoi per gli infortuni, vuoi proprio per la gestione, vuoi per tante situazioni. Se invece dovessimo uscire dalle coppe e quindi potessimo giocare una volta sola a settimana, vada bene. Io non sono per uscire, nel senso io sono uno che parteciperebbe a qualsiasi competizione cercando di vincerla per mio Milan, quindi io vorrei idealmente che la squadra se non riuscisse a qualificarsi agli ottavi di Coppa Campioni finisse in Europa League e provasse vincere l'Europa League. Ma mi rendo conto che la situazione adesso è talmente fragile ed è talmente instabile che forse per quest'anno onde evitare magari di rischiare guai grossi questi sì, da un punto di vista di immagine e prestigio, ovvero non entrare nei primi quattro, perché è una situazione che comunque può succedere. Se per esempio altre squadre cominciano ad ingranare e noi dovessimo continuare a zoppicare, può essere anche che questo scenario si verifichi, quindi piuttosto che immaginarmi un Milan fuori dai primi quattro per andare a inseguire una competizione che comunque è complicata e comunque richiede uno sforzo e tra l'altro di giovedì quest'anno preferirei, se non si riuscisse ad arrivare alle ottavi di Champions, uscire e dedicarmi al campionato. Allora in quel caso gli scenari che si potrebbero aprire sono molteplici perché lì potremmo anche concentrare le nostre energie tutte su quell'obiettivo e vedere che cosa succede. Sicuramente andare a prenderci uno dei primi quattro posti, perché io l'ho sempre detto, al di là di tutte le critiche che posso aver mosso questa squadra, la campagna acquisti, appioia, tutto, io ho sempre detto che per me questa è una squadra che nei primi quattro in Serie A ci arriva in carrozza, comodamente, quindi per uscire dai primi quattro nella Serie A di quest'anno bisogna fare veramente un gran lavoro, questo sì. Ma vedremo che cosa accadrà, vedremo la seconda parte di stagione, dopo Newcastle capiremo e potremo pianificare un po' meglio quello che sarà, ma nel frattempo il mio concetto di accontentarsi è questo e io dopo ieri mi accontento. Buona domenica a tutti.